Ladies and gentlemen, guardate questa foto e lasciate che vi scombussoli le retine per qualche secondo. Immagino ci sia un po' di scetticismo nel vostro sguardo. Ebbene sì, signori, si tratta effettivamente di una foto e non di una raffigurazione pittorica. La sua folle perfezione geometrica, unita al rifrangersi della luce attraverso un disco di frammenti di ghiaccio largo quasi 300.000 km, crea un risultato visivo troppo lontano da qualunque riferimento noto alla nostra limitata esperienza sensoriale. L'ha scattata la sonda Cassini nel 2013, a circa 1 miliardo e 400 milioni di chilometri dalla Terra, nove anni dopo aver finalmente raggiunto Saturno ed essersi inserita in orbita intorno ad esso. Dal punto di vista di Cassini, Saturno in questa foto stava eclissando il Sole, permettendo ai sensori della sonda di non rimanere abbagliati dalla nostra stella e di poter così perfettamente catturare anche gli anelli più flebili, illuminati da dietro. È un'immagine molto potente ed importante, sia per il suo significante, e qui sarà anche questione di gusti, ma faccio fatica a farmi venire in mente qualcosa di più bello, mai catturato da una macchina fotografica, che per il significato. È il trionfo dell'ingegno umano, della nostra curiosità. Rappresenta un altissimo picco di celebrazione di ciò che siamo in grado di ottenere quando mettiamo da parte le nostre differenze e investiamo grandi risorse in un progetto che ha come unico e solo scopo quello di accrescere la nostra conoscenza, senza alcun secondo fine economico o politico. È come se la maestosa presenza del gigante gassoso non bastasse, in questa foto si nasconde un dettaglio che ne accresce ulteriormente il suo valore simbolico. Se ingrandiamo questo angolo periferico tra gli anelli denominati G ed E, notiamo un puntolino di luce, decisamente poco degno di nota, in apparenza. Ebbene, quelli siamo noi, la Terra. Piccoli, lontani, tutti compressi e stipati in una mezza dozzina di pixel. Ladri, benefattori e monaci tibetani. Uomini, donne e bambini, balene, elefanti e calabroni. Siamo tutti lì, circondati da un mortale nulla per svariati milioni di miglia in ogni direzione. Così piccoli e apparentemente insignificanti nell'economia del cosmo, eppure, inequivocabilmente, gli unici in grado di portare a casa un autoritratto del genere. Una foto contenente questo stesso spirito l'avevamo già realizzata nel febbraio del 90, utilizzando la sonda Voyager 1, distante in quel momento 6 miliardi di chilometri dalla Terra, grazie a un'idea dell'astrofisico Carl Sagan. Uno scatto diventato molto famoso, denominato Pale Blue Dot. Il palido puntino blu sarebbe appunto la Terra, un puntino quasi invisibile nascosto nel ritratto di famiglia di tutto il sistema solare. Credo che la versione scattata da Cassini ne possa raccogliere il testimone e diventare la Pale Blue Dot 2.0, anche se immortalata da una distanza un po' meno vertiginosa. La sonda Cassini è un progetto il cui embrione si è formato addirittura dai primi anni Ottanta, e che ha richiesto la collaborazione di quattro agenzie spaziali in Europa e Stati Uniti e il lavoro di giscenziati di 27 paesi, con un budget di oltre 3 miliardi di dollari. Il risultato di questo sforzo titanico è stato una delle missioni spaziali obiettivamente più di successo mai intraprese dall'uomo, mantenuta in vita per quasi vent'anni dopo la partenza dalla Terra, con 450.000 foto scattate e 635 GB di dati trasmessi, contenenti abbastanze formazioni da dar lavoro alla comunità scientifica per tutto il XXI secolo. Ora, se andiamo a fare bene i conti, a partire dal giorno in cui il razzo Titan 4B Centaur l'ha liberata dalla stretta gravitazionale terrestre il 15 ottobre del 1997, fino all'arrivo nel sistema di Saturno nel 2004, e poi via via, fino al tuffo kamikaze nella spessa atmosfera saturniana nel settembre del 2017, che ha messo fine alla missione, fanno 7.275 giorni. I primi 2000 e passa la sonda li ha trascorsi quasi interamente sonnecchiando, ma dal 2004 in poi ha lavorato instancabilmente, mettendo in funzione ben 12 strumenti scientifici, di cui solo uno era addetto a scattare foto, e tra l'altro tenendosi agganciato a Huygens, un lander delle dimensioni di una utilitaria che si è poi separato da essa a fine 2004, per andare a scattare per la prima volta nella storia delle foto dalla superficie di un satellite naturale che non sia la nostra luna, ovvero Titano. 7.275 giorni, salvo errori da parte mia, ma comunque siamo lì, eh? Come si alimenta una macchina per tutto questo tempo, senza rischiare inutilmente che qualcosa vada storto troppo presto, mandando in fumo i miliardi di dollari e un quarto di secolo di lavoro, e senza la più vaga speranza di poter fare sostituzioni a componenti esausti, come per esempio batterie eventuali. Non esiste oggi una batteria che possa fornire energia costante per 20 anni a 200 gradi sotto zero. Figuriamoci negli anni 90, quando Cassini veniva costruita, o addirittura nei 70, quando furono le due temerarie son the Voyager a lasciare la Terra. Cos'è? Abbiamo usato il gasolio? Siamo seri. Pannelli solari forse? No. Alle distanze in cui orbitano i pianeti esterni, la radiazione solare è troppo debole per produrre sufficiente elettricità, a meno di non dotare le sonde di pannelli grossi come i campi da tennis, che renderebbero però il tutto troppo pesante per essere lanciato a bordo di un razzo. Nel caso della più recente sonda Juno, destinata al pianeta Giove, siamo effettivamente riusciti ad alimentarla con pannelli solari. grazie però alla minor distanza di Giove dal Sole rispetto a Saturno e allo sviluppo del fotovoltaico ottenuto negli anni 2000. Ma per gli obiettivi di Cassini, Voyager 1 e 2, New Horizons e per i più grossi e potenti rover marziani come Curiosity e Perseverance, c'è bisogno di qualcosa di un po' più vivace. Un po' più vivace è plutonio. Ah, plutonio. Non però lo stesso plutonio delle bombe atomiche. Per ottenere energia da quel tipo di plutonio, ovvero plutonio 239, dovremmo ricorrere alla fissione e quindi spezzare sui nuclei atomici con bombardamento neutronico, mettendo in moto una reazione a catena, perché senza fissione quel plutonio rilascia spontaneamente troppo poca energia. E infatti il suo tempo di dimezzamento radioattivo è di ben 24.000 anni. Ma se vogliamo la fissione, dobbiamo costruire un reattore nucleare e spararlo nello spazio. Pesante. Il plutonio 239 ha però un fratello meno noto, con delle doti speciali, ma che non essendo adatto alle bombe o alla produzione di elettricità su larga scala a scopo civile, viene prodotto in quantità quasi ridicole, perché a parte che alla NASA non interessa quasi a nessuno. Per diversi anni dopo il 2000 sembrava addirittura che nessuno lo avrebbe più prodotto su tutta la faccia della Terra. Stiamo parlando del plutone 238. Stesso numero di protoni ed elettroni, ma con un neutrone in meno rispetto al plutone 239. Quel neutrone in meno, per ragioni che non spiegherò in questo video, porta il suo tempo di dimezzamento radioattivo da 24.000 a soli 87 anni, e fa sì che, semplicemente per il fatto di esistere, esso liberi una grossa quantità di calore verso l'esterno, senza che ci sia bisogno di stuzzicarlo in alcun modo, né di costruire ingombranti reattori. Il decadimento radioattivo è infatti un fenomeno totalmente intrinseco di alcuni elementi chimici, a differenza della fissione nucleare, che deve essere indotta, con rapporto inversamente proporzionale tra il tempo di decadimento ed energia rilasciata. Gli elementi radioattivi sono infatti quelli con i periodi più brevi. Non solo. Il decadimento radioattivo che caratterizza il plutone 238 si chiama decadimento alfa, ed è composto da due neutroni e due protoni per ogni nucleo atomico che decade. I raggi alfa sono relativamente pesanti e facilissimi da schermare. Bastano pochi centimetri di aria, tra noi una sorgente alfa o un foglio di carta, per renderla perfettamente innocua, a differenza di una sorgente gamma, da cui è difficile schermarsi senza usare il piombo. Infatti, uno dei primi utilizzi proposti per il plutonio 238 era per la costruzione di pacemaker, che non avrebbero mai richiesto la sostituzione della batteria. 139 persone ricevettero tali pacemaker, prima che il programma venisse abbandonato per timori di rilascio di plutonio durante il processo di cremazione. Conoscete Atom Heart Mother, The Pink Floyd? Beh, l'originale titolo viene da un articolo notato dalla band in una rivista, in cui si parlava proprio di questi pacemaker atomici. Anyway, come forse potrete immaginare, è la massa stessa di plutonio 238 a fermare pressoché tutte le radiazioni alfa che essa stessa emette, tranne quelle generate dagli atomi situati in superficie. E nel fermarle si scalderà, fino a diventare addirittura incandescente. Una volta ottenuta questa sorgente di calore inarrestabile, o che comunque ci mette secoli a spegnersi del tutto, basta utilizzare un dispositivo chiamato termocoppia, che non fa altro che convertire il calore in elettricità, dando quindi linfa vitale agli strumenti di cui è dotata una sonda spaziale. Questa combinazione tra plutonio e termocoppia forma la centrale energetica di una sonda spaziale, chiamata RTG, Radio Isotope Thermal Generator. L'efficienza di una RTG è in realtà piuttosto bassa, infatti più del 90% del calore viene sprecato, anche se esso risulta comunque prezioso per mantenere la strumentazione della sonda a temperature funzionali. Per esempio, a partire da una sorgente di un paio abbondante di kilowatt termici, immaginatevi quindi il tepore di un paio di stufe casalinghe, generato però da una sfera di 4 kg di plutonio 238, si ottengono più o meno 150 preziosi watt di elettricità, che dovranno essere gestiti in maniera molto intelligente e parsimoniosa per far funzionare tutti gli strumenti a bordo. Il tempo di decadimento di 87 anni significa però che questi 150 watt scenderanno nel tempo. E anche se risulta difficile immaginare che una sonda possa continuare ad operare e a comunicare con la Terra per molti decenni, basta di pensare alle due Voyager, che lanciate nel 77 sono ancora funzionanti nel 2021 e riescono, seppur con comprensibile fatica e dopo aver dovuto spegnere la maggior parte degli strumenti a bordo per compensare al calo di elettricità generata dai loro RTG, a inviare flebili segnali al nostro Deep Space Network sulla Terra, da distanze ormai superiori ai 20 miliardi di chilometri, 140 volte la distanza a Terra-Sole. Tutto il plutonio 238 al giorno d'oggi viene prodotto negli Stati Uniti, a Oak Ridge in Tennessee. Ma esistono piani del Canada di unirsi alla produzione di questo combustibile importantissimo per la NASA. Parliamo comunque di una produzione annuale che si aggira intorno a un misero chilogrammo. Purtroppo non è tecnicamente possibile pensare di separarlo dalle scorie prodotte dai reattori nucleari ed uso civile, in cui è effettivamente presente in piccole quantità. È troppo simile agli altri isotopi del plutonio. È destinato quindi a rimanervi disperso all'interno. Per produrlo in forma pura è necessario prima ottenere il Nettunio 237, che può invece essere estratto dalle scorie nucleari al ritmo di 700 grammi ogni 100 kg di combustibile, e poi in separata sede bombardare il Nettunio con neutroni. Ma esistono alternative al plutone 238 per l'esplorazione del sistema solare esterno? Va detto che nessun altro degli isotopi radiattivi inizialmente considerati per la produzione di RTG, come Polonio 210, Stronzio 90 e Americio 241, ha la giusta combinazione di quantità di energia liberata, lunga durata necessaria per missioni multidecennali e facilità di schermatura dalle radiazioni, che possono creare grossi problemi alla strumentazione elettronica quando non si tratta di raggi alfa. Il plutone 238 sembra essere una vera manna piovuta dal cielo, con tutti i parametri impostati al punto giusto, per cui speriamo si riesca a mantenerne una limitata ma comunque stabile produzione. E alternative non nucleari? Allo stato attuale della tecnologia è impensabile non utilizzare radioisotopi lontano dal sole. Questo perché la densità energetica di una reazione chimica è milioni di volte inferiore rispetto a quella che si può sprigionare con una reazione nucleare. Vorrei riportare la vostra attenzione su ciò che ho descritto prima. Immaginatevi una sferetta di plutonio di pochi centimetri di diametro, situata su una superficie che non prenda fuoco. Sprigionerebbe il calore di una o anzi due stufe domestiche per poco meno di un secolo. E dopo quattro secoli sarebbe ancora lì imperterrita ad irradiare un discreto tepore, senza parte in movimento né alcun tipo di manutenzione necessaria. Lo so che si fa fatica a comprendere come ciò sia possibile, perché per ovvie ragioni la stragrande maggioranza di noi non ha alcuna esperienza di prima mano con materiali altamente radioattivi. Il nucleare rimane un qualcosa di misterioso e mediamente spaventoso, dato che lo sentiamo nominare quasi solo in film horror o serie tv sugli zombie. E infatti, ogni volta che la NASA lancia un razzo con un RTG insediato nella sua ogiva, ci sono proteste da parte degli ambientalisti, che preferirebbero vivere a testa in giù dentro la ciminiera di una centrale a carbone, piuttosto che aver qualcosa di nucleare nel loro stesso continente o nel loro stesso sistema solare. Nonostante l'uso che facciamo di questo prezioso combustibile sia estremamente nobile, pacifico e pianti semi per frutti che magari raccoglieremo tra decenni per vie totalmente laterali e che nel presente non possiamo neanche provare a immaginare. Lo stesso Glenn Seaborg, scopritore del plutonio, mai nei suoi più vanagloriosi sogni avrebbe potuto immaginare che il suo lavoro in fisica nucleare ci avrebbe portato 73 anni dopo la sua scoperta questo meraviglioso selfie di tutti noi terrestri al cospetto del Signore degli Anelli. Grazie a tutti.